In merito al Recovery Fund, il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, informa di aver aderito al documento firmato dai sindaci meridionali di ogni schieramento politico che sollecitano l'attuazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza e di contribuire alla revisione del documento per renderlo più possibile coerente con le aspettative dei territori. Dobbiamo tutti insieme annullare il divario inaccettabile tra sud e nord del paese, dichiara Gatta. Il rilancio del mezzogiorno deve essere una priorità per il governo. Regioni, province e comuni meridionali dovranno avere un ruolo da protagonisti nell'attuazione degli interventi. Le risorse economiche che arriveranno dovranno servire ad attuare i giusti investimenti per spendere correttamente i fondi del Recovery. Il nuovo mezzogiorno dovrà essere sempre più attrattivo. La crescita del paese dipende dallo sviluppo del sud, ha dichiarato Nicola Gatta.